Ma io non so che notizie arrivano a Torino, figuriamoci che notizie arrivano a Spagna, non lo so, il mio rapporto del giocatore è buono, poi se il giocatore si agrabbia su una sostituzione la penso esattamente come Simeone, da parte dei giochi secondo me è anche positivo, soprattutto da parte di un giocatore che ha vinto tutto, significa che c'è ancora forti motivazioni, quindi mi sta benissimo, come ho sempre detto poi ho ormai 25 anni e vedo uscire giocatori leggermente incazzati alle sostituzioni, quindi non mi fa più né caldo né freddo. Ieri Cristiano ha fatto la seduta all'allenamento nei compagni, sembra in crescita, poi se abbiamo risolto definitivamente valutiamolo fra l'allenamento di oggi e l'allenamento di domani, ma è molto positivo il fatto, ieri si è riuscito a fare tutto l'allenamento con i compagni, vediamo se oggi ci sono ripercussioni a questo, penso e spero chiaramente di no. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes, suscríbete aquí. Grazie. Grazie.